Per adesso la concentrazione è rivolta al calcio giocato, ma quest'Arezzo non perde di vista anche altri progetti, tra i quali le caselle e la creazione di un museo dedicato al cavallino. La settimana che sta per iniziare potrebbe portare in dote l'assegnazione delle caselle all'Arezzo. L'impianto sportivo, al centro di un ride notturno da parte di ignoti che hanno devastati i locali e i materiali presenti all'interno della struttura, diventerà la casa dell'Arezzo del suo settore giovanile. Le caselle andrebbero così a risolvere i problemi legati agli impianti per gli allenamenti e il lavoro settimanale. L'Arezzo dovrà investire sull'impianto per rimettere in sesti i terreni di gioco che non hanno ricevuto alcun trattamento dal momento in cui il Tribunale aveva posto i sigilli sull'area. A fine mese il Consiglio Comunale darà l'ok per la concezione degli impianti e da settembre diventerà a tutti gli effetti il centro sportivo dell'Arezzo. Una svolta non da poco, anche perché con l'antistadio la situazione si fa sempre più ingarbugliata. Alla magistratura è arrivata anche una richiesta di risarcimento da parte dei proprietari dei terreni quantificata in circa 70.000 euro. I giudici hanno ritenuto ammissibile la perizia sui presunti danni a campini e quindi si andrà al dibattimento con l'ipotesi concreta che l'Arezzo debba quantomeno arrivare a una transazione. C'è poi il capitolo Museo, una situazione in sospeso per la questione legata alla presenza nei locali dello stadio dell'Unione Ciclistica Retina. L'Arezzo ha atteso per diversi mesi che la società ciclistica si trasferisse in altra sede ma la situazione non si è sbloccata. In quegli ambienti la società vorrebbe realizzare il museo e il progetto a oggi è bloccato. La dirigenza Maranto, dopo aver avuto lo stadio in concessione dal comune, indicando il 30 novembre 2016 e poi il 28 febbraio 2017 come termini ultimi per il trasloco dell'Unione Ciclistica Retina, a quanto pare sembra intenzionata rivolgersi alla Polizia Municipale per ottenere lo sgombero dei locali.